Partita molto ostica qui sul campo di San Francesco, siamo nello spogliatore del Bresino, con me è presente un giocatore, Mattia, iniziamo subito con un commento sulla partita. Buongiorno a tutti, la partita secondo me è stata molto combattuta fin dal primo minuto, continuando appunto fino all'ultimo. Abbiamo perso solamente di un gol, mi siamo stati finiti 5-4, siamo stati svantaggiati da azioni decisive per gli avversari, anche da parte di terzi. Abbiamo finito sotto di un gol in primo tempo, abbiamo finito sotto di un gol nonostante non mi avessimo dato fino alla fine. Ho visto che su una maia c'era scritta Avis, non è che vorresti fare una piccola considerazione su questo? Beh sì, innanzitutto perché il CSI non è soltanto calcio, molti dei membri della squadra sono anche due natori Avis, è nato come sponsor e lo avremo sempre scoperto nel cuore. Io ti ringrazio, belle parole, grazie per la disponibilità. E' stato Matteo di venirci a vedere tutte le domeniche, un messaggio per le ragazze. Bel commento, è tutto rosso. E comunque, grazie.